Ciao a tutti, sono Luca, bentornati sul canale. Per questo video ho deciso di provare a fare un po' di tracing e lo faremo su un set di quadri dell'IKEA. Sono ormai un paio di anni che li ho comprati, non so se ci sono ancora in vendita, ma li ho trovati molto belli in primis, perché ce ne ho uno dedicato a Londra e io sono un fanatico. Poi ce ne ho dedicato a Parigi e uno dedicato a New York. E per o male credo che siano tutte delle bellissime città. New York, per sentito dire, perché non ci sono ancora stato. Andrò a trovare il mio amico Andrea prima o poi. Aspettami. Chiaramente cominciamo con quello di Londra, per i motivi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. G, A, R, D, E, N, Garden. N, N, G, H, T, L, E, F, L, Nightlife. M, U, S, I, G, Music. S, O, H, O, L, O, N, D, O, N, London. Non so se l'avete visto nei giorni scorsi. Hanno iniziato a togliere un po' di impalcature. Lo stanno restaurando. E hanno ricolorato il quadrante, che fino ad ora era bianco e nero, con i numeri neri. E adesso è tornato come nella versione originale, che era un blu molto scuro. L'effetto è molto strano a vedersi, però sta bene. B, U, B, E, Tube. E, Tube. Per chi si chiedesse come è fatto dietro, è molto semplice, è una sorta di tela. Tirata su questa interlaiatura in legno, credo sia legno, e poi è pinzata, con tutti i colori. Veri gialli, blu, magenta, giallo, nero. Pari. Ci siete mai stati? Io ho fatto una toccata in fuga alcuni anni fa, mi è piaciuta. Pari. M M E D R O D O U R R E E I F F E L R 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 Se dovesse capitarvi di andare a Parigi, naturalmente è obbligatorio fare un giro sulla Tour Eiffel. Per chi soffre di vertigini è un po' dure a guardare sotto, però c'è un panorama che vale la pena, che vale anche l'attesa, perché c'è un po' da aspettare prima di salire, in genere. Io almeno ho aspettato un po'. Una volta avevo una pronuncia migliore, ora faccio soltanto il finto francese. Rettangolo viola. Rettangolo viola. M E T R O Metro Rettangolo viola. Rettangolo viola. Rettangolo viola. T Grazie a tutti. New York. E questo dovrebbe essere l'Empire State Building, se non sbaglio, no? Purtroppo non vado forte con i palazzi new yorkesi. Sono totalmente focalizzato su Londra. N, E, W, Y, O, R, K, New York. Rettangolo arancione. M, A, N, H, A, D, D, A, N. E, Manhattan, B, H, O, A, D, W, A, Y, Broadway. Mi piacerebbe andarci a vedere qualche spettacolo. S, U, B, W, A, Y, Subway. A, R, T, S, Arts. Cinque, D, H, A, V, E, N, U, V, Fifth Avenue. And participare anche? EMPIRE STATE BUILDING EMPIRE STATE BUILDING EMPIRE STATE BUILDING EMPIRE STATE BUILDING NEW YORK EMPIRE STATE BUILDING EMPIRE STATE BUILDING EMPIRE STATE BUILDING Spero che vi sia piaciuto questo piccolo esperimento di tracing sui quadri Ikea Nel caso fatemi sapere nei commenti così possiamo replicare Se avete qualche oggetto preferito su cui provare a farlo ci cimentiamo assieme Personalmente mi rilassano molto e mi fanno venire anche un sacco di brividi questi video Spero di essere riuscito a far venire anche io qualcuno Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale E vi ricordo che nella infobox qui sotto potete trovare tutti i vari collegamenti ai miei canali social Anche a Dingos E se non lo conosceste Dingos è un'applicazione sia per iOS che per Android Che permette di seguire i vari canali ASMR Tra cui anche il mio E a differenza di YouTube è possibile guardare i video anche con lo schermo spento Beh, chiaramente non li guardereste, li sentireste solo Però se avete l'abitudine, come me, di mettere qualche video sul telefono Prima di addormentarvi, per aiutarvi a rilassarvi È l'app giusta perché così non avete la luce dello schermo che vi disturba il sonno E riuscite ad addormentarvi con facilità Quindi provatela, trovate tutti i collegamenti qui sotto Naturalmente gratuit, quindi provate Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti